Il magnate petrolifero e minerario Ike Batista è uscito dal carcere e si trova agli arresti domiciliari. L'ex uomo più ricco della Brasile era stato arrestato dalle autorità il 30 gennaio scorso nell'aeroporto di Rio de Janeiro, appena era uscito dal suo aereo proveniente da New York. A suo carico pesano le accuse di corruzione, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale nell'ambito dell'inchiesta che ha travolto il gigante petrolifero Petrobras.